Con le attività sportive ferme a causa del coronavirus, in molte approfittano per svolgere attività sportiva all'aperto, in pineta, sulle spiagge o a mare, e grazie al vento che in queste ore soffia forte sull'isola verde, nello specchio d'acqua antistante la spiaggia della Chiaia a Forio, gli appassionati di kitesurfing hanno approfittato per scendere in acqua e dare spettacolo così sulle loro tavolette, sul litorale all'ombra del Torrione, a due passi dal porto e di fronte al promondorio di Zaro, in uno straordinario scenario naturalistico dove il verde delle colline circostanti sembra quasi fondersi in un tutt'uno col mare, tra virate volteggi si vola letteralmente sulle onde. Si tratta di una pratica sportiva molto spettacolare e che mette l'atleta direttamente a contatto con la natura e in questo caso, in modo particolare, col nostro mare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.